E' proprio il caso di dire che a Fasano tutti sanno, ma nessuno si alzarda a pronunciare i nomi di chi potrebbe, a vario titolo, essere coinvolto nel presunto suicidio di Patrizia Nettis, la giornalista di Gioia e del Colle, che al momento della morte svolgeva le funzioni di addetto stampa del comune di Fasano. Si tratta, come ormai noto, di un imprenditore e di un personaggio politico del posto. Entrambi avrebbero avuto una relazione sentimentale con Patrizia e il sospetto dei pubblici ministeri Giuseppe De Noz e Giovanni Marino della procura di Brindisi e che la ragazza sia stata spinta al suicidio con la neanche tanto verata minaccia di rendere note le sue vicende sentimentali. La famiglia Nettis, come è noto, sostiene dal primo momento che Patrizia non si sarebbe mai suicidata, visto il suo carattere gioviale e la sua determinazione nell'affrontare qualsiasi problema. Da qui la richiesta di accelerare le indagini per giungere a una verità su quanto accaduto a giugno nell'abitazione fasanese della giornalista. Purtroppo la perizia del suo computer, fatta fare dai magistrati, non ha sortito gli effetti desiderati in quanto i messaggi ricevuti per WhatsApp non sono risultati recuperabili neanche attraverso l'applicazione web e quindi bisogna cercare conferme in altre direzioni. Nessun dubbio ormai sul rapporto che la donna aveva con i due personaggi. Si tratta di capire, invece, fino a che punto si sono spinte le minacce nei suoi confronti e se uno dei due possa aver avuto accesso nel suo appartamento nell'orario in cui i medici legali hanno stabilito sia avvenuto il decesso. La risumazione della salma e la successiva autopsia chieste dai pubblici misteri titolari dell'indagine potrebbero offrire un contributo in termini di chiarezza anche per definire responsabilità dal punto di vista penale.